ok ragazzi ci siamo siamo tornati su persona 5 royal e siamo arrivati a scuola ora che dobbiamo fare con un studente problematica problematica è stata una madre eppure il ritardo già il primo giorno se dovete creare problemi da scuola in effetti no che atteggiamento è questo un altro un po di rispetto vabbè sì non ce ne frega un cazzo allora dobbiamo raggiungere la sala docenti ok non ci dice niente non deve dirci tipo dov'è la sala docente di rio no se a camuto è arrivato in nome ritardo di questo posto potrebbero spenderlo se la camuto sarebbe il ragazzo con cui siamo stati cinque secondi fa diciamo che quello biondo che comunque entrato cioè con cui siamo entrati nel castello dopo quello che ha fatto la squadra atletica continua comportarsi così ma se non è stato espulso è solo perché il prof kamoshida ha deciso di coprirlo il prof kamoshida è molto gentile non abbandona per strada un tappista del genere quindi aveva fatto qualcosa che non sappiamo riguardo alla squadra di atletica tu che vendi il pane nel negozio scolastico il pane che vendono qui non mi interessa scusami scusami non sappiamo dove la sala docente poi ci sono le varie classi 3b 3c quindi forse non è qua andiamo a cercarlo un po' in giro queste l'insegnante ho chialuto non posso più raccomandarti per quale università abbiamo deciso di puntare su un altro studente cosa ma avevate proprio adesso che avresti raccomandato me mi dispiace ma devi accettare la decisione della scuola prendi il cazzo eh ragazzi così è così così è la testa alla fine guardate la priorità è il mio medio della scuola di pallavolo il nostro fiero all'occhiello quindi è tutto incentrato ragazzi sulla squadra di pallavolo quindi sostanzialmente su kamoshida vabbè qua ci sono le altre classi quindi dubito che sia qui la sala docente però essendo che qua c'era un docente forse è qua vicino tipo qui esattamente sala docente questa è sembra sala docente è il tempo di entrare mi sono fatto acide mi sono perso quale Sakamoto ok 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 ragazzi non sono un criminale quindi posso anche non mentire su cosa devo mentire voglio dire eccoci eccoci eh già etichettate il primo giorno di squadra non è un gran che proprio niente ci conoscono già siamo ad etichettati E' sembra normale, però potrebbe uscire se lo guardiamo nell'occhio. In realtà me l'ho perso, però ok. Mi piacere di conoscervi. Ti spacco la faccia sempre in cazzare. Questo ragazzo non se la passo molto bene, diciamo. Lies. Sei quella ragazza? Questa è quella ragazza che avevamo incontrato alla stazione e poi è entrata in macchina con Kamoshida. Ah, proprio dietro di lei ci siamo seduti. Sì. Oh, significa che l'ha incontrato prima di trasferire qui? Questo significa che l'ha incontrato con il signor Kamoshida. E' attenzione. Quindi c'è una relazione con Kamoshida? Capia? Quindi non sono l'unico etichettato, diciamo. La voglia di vivere di questo ragazzo è paragonabile alla voglia di vivere di... come pensare... di Ryuji. Eh... Siamo in un castello? Vabbè, è un po' rincoglionito i ragazzi. Ma comunque la cosa che ho detto prima non c'ava totalmente senso, però non sapevo che cazzo dire. Eccoci. Eccoci, ho sento che la polizia ti prende le classi oggi. Era nulla. E tu non ti prendi la pelle a bianca. Scusate per questo. Ci vediamo sul bianca. Vedete? Perchè non voglio che ti prendere a partecipare. Entenduto? Anche io mi volevo ritingere Non ho fatto niente comunque, ricordiamoci Eh, stiamo messi in B Non c'è nessuna storia Tuoi problemi non sembliano venire, no? Principal Kobayakawa Allora, capisco Continuo a fare il mio best Per rispettare le vostre aspettazioni di me La faccia la merda Sakamoto sembra voler parlare di qualcosa Dovrei vedermi con lui sul tetto Anche se comunque in teoria Studente educato Non dovremmo fare con un bricola con lui Con una certa professoressa Però alla fine chi cazzo se ne frega da professore Studente educato Eh? Questo vuoi da me? Questo è quello che si ha messo a mare Dov'è il tetto? Ma nessuno può andare lassù Ma lo devi dire per essere in merda Subito, sono andati a coltello Cioè, sale su per le scale e ci arrivi Eh? Ha sentito la minaccia Tu che sei? Cosa posso scrivere per il prossimo numero? Se solo ci fosse qualcosa di interessante Membro del giornale scolastico Che ne dici del castello? Eh? Cosa? Un castello? Come gli antichi castelli del periodo Sengoku? Scusa, ma non ho idea di cosa tu stai parlando Beh, giustamente Vabbè, è tutto inutile ovviamente parlare con queste persone Scusate di quello che è successo a noi Perché non ci crede nessuno Dobbiamo andare sul tetto noi Qua sopra si va Voi chi siete? Ad ogni modo, grazie per essere tua festa volontaria Per la cura delle piante Oh, nessun problema È solo che non sono sicura di essere all'altezza del compito Non preoccuparti, sei di grande aiuto Ah, farò in modo che il tetto sia sempre aperto per te Ci sarà molto da lavorare, ma ce la farai Sì D'accordo, farò dal mio mail Più tardi andrò a dare un'occhiata Ok, quindi questa ragazza Insomma, ha un'attività di tipo di giardinaggio sul tetto Quindi lei ci può andare, noi no, capiamo C'è un cartello che viene all'ingresso, ma la porta quanto per aperta Entriamoci ovviamente, chi se ne frega Eccolo qua il nostro brew Eccoci Eh sì, perché sei down Dice che ha posto uguale Eh, siamo quasi in una stessa C'è un cartello C'è un cartello C'è un cartello C'è un cartello Non c'è che sei tu, Gutsi C'è un cartello Quindi, grazie Figurati, voglio dire Ok, Kamoshida, il tizio di prima Vabbè, sì, è lui, insomma Il capellone è muscoloso Puri sono capellone, ma sono muscoloso Io ce l'ho capito Se dici no la parola castle, devi si sale giù Ah, forget it, must have all been a dream It has to be Eh, invece Che ne è stata inutile a nostra conversazione di oggi, praticamente Piacere Ok Carino il tetto Ah, ecco, forse è questa l'attività di giardinaggio Di cui parlavano prima con le due ragazze Vabbè, per oggi è tutto Penso dobbiamo tornare a casa, sostanzialmente Infatti, credo che tornerò a casa per oggi Ok Ma roccia cacca cazze Ma perché non muore? Ahah Non ho potuto evitarlo C'è, non mi cagare i coglioni Intanto farò di testa mia Lo capisco Certo che lo capisco Pipi Posso fare il cazzo che mi pare Almeno a casa mia Sì, sì Sì, stiamo tornando ora Ho detto, è un part-timer Ho detto, è un part-timer Chissà con chi stava parlando, boys Vabbè, ciao Buonanotte Buonanotte a tutti Non ci cagano il cazzo Se no andiamo a letto Chiudiamo gli occhi immediatamente C'è un carabinino a casa Dai, dai Scommetto che mo Eccoci Momento souls Sapevo io che deve succedere Stacusa Buonasera, sono tornate Anche quando dormo Comunque le persone C'hanno con me Non c'è da dire Vedi? Il nostro maestro Vuole parlare con te È per il vostro Volevole Che prendi le parole A heart Mi metto a letto In piedi prigionieri Nostro padre Non si deve parlarti Prima di tutto Lasciamo Celebrare la nostra riunione Oh Tu hai esercitato Tu hai esercitato Tu hai esercitato E tu hai esercitato E tu hai esercitato E tu hai esercitato Esattamente Che cosa è la riabilitazione Giusto per chiedere No no Scusa 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 Non mi spiegare niente Per favore Non mi spiegare nulla Il navigatore del metaverso Cioè Sappiamo cos'è Penso sia quell'applicazione che abbiamo sul telefono ma palazzi i palazzi sono si ma io avevo fatto un'altra domanda ok quindi non sono l'unico cavallo ma i ladri di che cosa perchè devo diventare un ladro sempre criptico ragazzo con quel naso del cazzo sta piovendo ho fatto un altro strano sogno fatto e risveglio ce la capivo un attimo adesso però devo sbrigarmi e prepararmi per andare a scuola ovviamente ovviamente occhio che sta piovendo però bravo che le pensa l'autista lanciarsi in stazione a tutta velocità cose da pazze ovviamente si sta parlando dell'incidente che abbiamo visto nel primo episodio non lo sai pare che abbia dato di matto succede spesso ultimamente dopo una routine la gente sta impazzando per questo è che ci sono tutti questi incidenti vero? beh tra la crisi economica e tutte queste notizie reprimenti c'è poco da stupirsi guardate guardate non è che? non è che si Per favore, prendi la mia stazione, la mia stazione è arrivata Siete sicura? Oh, allora Oh, wow, che velocità Scusami, quella stazione era per questa donna Vuoi che lo svegli, tra virgolette, perché, cioè, significa che lo devo prendere a bot Certo, domani mori, voglio dire Ovviamente scherzo, ragazzi In game, tutto in game Mi permette meno di portare il bagaglio Mi riferivo alla vecchia, prima, ovviamente Perché era una certa età Per cosa? Per parlare quando ho offerto la mia sede sul treno Che carino No, tranquillo E se ne va Una comparsa così Giusto per ringraziarsi Che persona graziosa Non fare tardi a scuola Va bene Comunque, ragazzi, non so se l'avete riconosciuta Ma quella ragazza era quella che ci ha salvati Solo che c'era la maschera Che ci ha salvati Poi va all'inizio del gioco Quando stavamo nel casino Pare che sei arrivato a scuola C'è un dizionario che definisce l'anno Un periodo di 365 delusioni Il titolo del libro è cinico quanto il resto È il dizionario del diavolo Di Ambrose Beard Insomma, si pronuncia Ehi, ragazzo nuovo Che cazzo vuoi? Mi sto atteso nel castello Qual è stato il fattore determinante Per il progresso dell'umanità Secondo il dizionario del diavolo? Intelligenza, denaro, nemici o esperienza? Eh, io so la risposta Ed è nemici Esatto, malfattori per la precisione Ha saputo rispondere Anche stava pensando al castello I malvagi possono influenzare la storia Ma ricordate che questa definizione È una battuta sarcastica Ahia, che battuta Qui nel mondo reale I malvagi non fanno progredire l'umanità Ma spargono causa e conflitto Non c'è altro Wow, l'ha azzeccata A me è davvero un criminale Sembra un teppistello Eh, si vede la faccia Ma magari si sta dando Da fare con lo studio Aver dato la risposta giusta Mi fa sentire più brillante Vedi? Si gratta il collo Conoscenza Allora, in questo gioco Ci sono le dati sociali Le dati sociali Voglio dire Praticamente C'è questa stellina qua Con queste diverse dati sociali Noi facciamo determinate cose nel gioco Possiamo aumentarle E aumentando Ci permette di fare altre cose Che non potremmo fare normalmente Tipo adesso Abbiamo aumentato la conoscenza Anche se sta ancora a uno Però abbiamo Diciamo Ehm Iniziato a fare aumentare Ehm La crescita del livello Cioè non so bene come spiegarlo Però insomma Tra un po' diventerà due Man mano che Che acquisiremo queste cose qua So che avete sentito Tutte le notizie Su quei Sobillatori Non abbiamo posto per i criminali Né a scuola Né alla società Percatto che ce l'avete dentro la scuola Un criminale Che non sono io Ma è il professor di costruzione fisica Sono stato chiaro? No Per niente però Ho sentito che è arrivata Una primina incredibile Wow Quella ragazza col fiocco E' magrissima Una primina Forse stanno parlando Della ragazza rossa Che abbiamo incontrato prima Il teppista E la studentela modella Che arrivano allo stesso momento Oh 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 Diciamo male Aggressione ricatto Spaccio Ah addirittura Spaccio ho fatto Puro Spacciato poco Ho sentito dire Che è consapevole un coltello Sì L'ho acquisito da poco Con la mia persona Effettivamente Pervertito Pervertito Bastardo Bastardo Pezzo di merda Ma perché mi devi cacare i coglioni a me Posso uscire con che cazzo voglio No lui deve vedere la scena No lui deve vedere la scena Mi ripeti che sei No beh si scherza Mi tenendo in bascata? Ma frate non è un sogno Non si scherza No No Certo che si fa Dai ragazzi Facciamo gli amici dai Deci non sembra un cattivo ragazzo Credo che doveva secondarlo per adesso No dai sembra un cibu nella fine Forse Beh ovviamente non siamo sicuri perché Siamo stati un po' disorientati Dato che ci siamo trovati in un castello Allora Forse ha a che fare qualcosa col telefono Di nuovo Mi sto seccato Mi sto seccato proprio nel giro Non voglio più vedere la scuola tutta la mia vita Sai cosa credono le persone che ci guardano E' normale che poi ti etichettano Comunque Un criminale Se hai questi gesti ambigui Cerca sul tuo telefono Google Maps Navigatore Fattuto subito il telefono Cos'è sta cosa Me la sono ritrovata Con lo schermo a bianco Come sta facendo vedi Non so come si fa Ah lui sa tutto L'ha fatta lui l'applicazione Vedete Sono tutte parole chiave Che noi abbiamo detto Mentre stavamo parlando con lui Per la prima volta Ahia Potere oscura All'opera All'opera Esattamente Esattamente Ma perché si fissa sui vestiti E' invidioso Ne parli sempre Non so come si fissa Non so come si fissa Non so come si fissa Che cosa succede Qui ci sono Non so come si fissa Non so come si fissa Sì, si vede comunque quella scuola. Ah, vedi, è qua. Questo castello è la scuola, ma solo per questo castello. Ah, attenzione, quindi questa è la sua visione della scuola. Beh, non è che è facile però da capire, gatto. Cosa hai detto? Cosa era? Deve essere la scuola. For reale? Oh, no, è for reale. Vedi altri ragazzi che si trattavano qui qui, sono sicuro che sono dalla scuola. Più probabilmente su ordine di Kamoshida. Non è nulla di ordine. Cosa la più, tutti eravamo e ricordai. Dev' hat riuscito il tempo in qualche minuto. Il figlio di p***a! Ryuji? Questo è cacchezza! Sireni omi, Kamushita? Faclare questo non va a aprire, ecco, ancora sembra che tu avresti oltre le tue risorse. Ehi, Mona Mona! È Morgana! Il più intelligente, ovviamente. Andiamo. Eh, la destra di nuovo. Ok, ma ovviamente il gatto ne sa molto più di noi, eh? Dato che è un gatto, questo è il punto di filtrazione. Non è quello che abbiamo escapato l'ultima volta? Certo. Non bargare in sull'entranzo è uno dei basici della scuola. E' un ladro fantasma, quindi se ne ha inventato... Se ne ha inventato lui il termine. E' sicuramente di insegnarti come andiamo. Quindi, ehm... Scusate di portare in tutto questo. Ma... Non posso scoprire questo bambino di Kamoshira per fare ciò che vuole! E' vero, però... Grazie per venire. Ti dovi molto tempo. Tranquillo. Non mi fai qualcosa di... Di sporco. Ma... Andiamo, in questo posto non è spiegato come sempre. Mh... Ora, assicurati di fare esattamente come ho detto, ok? Questa cazzo, non lo sai il gatto. Ho pure abbastanza la voce, Pat. Seguimi. Ok. Siamo di nuovo qui. Esatto. Sì. E poi ancora non stiamo capendo bene in realtà cosa sta succedendo. Abbiamo capito che questo è il modo in cui Kamoshira vede la scuola. Ma non sappiamo perché esiste questa cosa. Cioè... Perché siamo qui dentro. Questo lo stiamo facendo. Sì. Vabbè, tranquillo. For real di nuovo. Oh, ragazzo. Lui comunica... Comunica così, lui. Sempre cercate di ambusciare gli enemigos, invece di riuscire a tutti gli occhi. Ok. Dalle spalle. Dalle spalle. Ok. Dalle spalle. Ok. 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 Se tu succedi, tuo amore sarà attaccato da dietro. Eh, infatti. Ti deve nascondere all'angolino lui. Allora, andiamo Ok, andiamo avanti Questa è bella l'estetica Infatti, qui non c'è nessuno Abbiamo fatto casino ultimo Ah, non lo intende qua Colto urbante Ma si è fatto tutto il castello a piedi Lui pratica a me Beh, è più evidente di così la stanza Come mai? Puzza Ok, quindi è tutto Tutto dipende dal segno del palazzo Cioè, proprio tutto il palazzo in sé Ok, questo luogo è un'altra realtà proiettata dal quale si è un'altra realtà Esatto Ok Ok Ok, quindi essendo che lui la scuola la vede in questo modo In questo mondo, il modo in cui vede la scuola si materializza E' questo il risultato Ok, quindi i palazzi abbiamo scoperto Che sono questi posti, insomma Anche Qu assistito C sembra di più 단 그러면 Capaccio 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 Non so cosa succede tra te due, ma non lascia i tuoi emozioni che vanno meglio di te. I suoi lacchi sono ovunque dentro. Sei curioso sui vestiti, non ti? Sì, sono curioso su questo anche. Questo è anche per questo mondo. Più più cose che non rende niente. Qualcosa cosa distorsi a come un reglior ha piaciuto nella sua palestra. Una scuola può diventare un castello come questo. Allora, per evitare queste distorsioni, uno deve mantenere una potente wille di ribellione. La tua apparenza è una manifestazione di questo. È l'imagine di ribellione che guarda dentro. Non è ben chiara questa cosa, però sostanzialmente è il riflesso della nostra persona. Ah, sono così freddo con tutto questo! Sono più curioso di te che le tue le tue! Ma come sei tu comunque? Sono un gatto. Guarda, a prima botta non lo direi sinceramente. No, sei ovviamente più come un ucchio! Un umano altro 20 cm con la code. Questo è... Beh... È perché ho perduto la mia vera forma. Però vedi c'è la sciarpina, quindi si sta. Ha perso la sua vera forma. Credo. Credo. Non sa niente. come regalare la mia vera forma. Ma attenzione. Ah beh, lui è espertissimo della vita. Il motivo per cui l'ho scappato qui, era per un'investigazione preliminari di questi motivi. Ah, un'indagine proprio. Il commissario Montalbano. Ahia! Minta. Sì. 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 Attenzione. Cazzo, è un criminale! È un modellino. Ok. È un modellino. È un modellino. Ma sembra totalmente reale, quindi lo farà almeno farlo. Oh, sono anche un modellino. Oh, ho anche un modellino. Sono anche un modellino. È quello che dicono, di proporzare il pre... qualcosa. Eh? 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 Sì. Grazie. È diventato un dottore tutto un tratto. Grazie. Tkakev. Medicina. La pistola si chiama Tkakev. Ok. Sì. 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 Perché giustamente qua dentro ci possono prendere. La safe room. Nella safe room per costruttarti con i tuoi compagni a salvare la partita. Venga, salva l'ingresso del palazzo. Infatti voi ragazzi salveremo perché avanti che moriamo. Cosa che non penso succederà però. Per dubbio salviamo. Ok. Beh, possiamo parlare effettivamente. La nazione. Dove sono finiti i ragazzi che erano imprigionati? Probabilmente sono stati espostati altrove. Ma dove? Perché? Non chiederlo a me. Che cazzo ne so. Ma qui in giù c'erano dei soldati, giusto? Magari potremmo dire le loro conversazioni. Tu che hai da dire invece? Origliamo i discorsi dei soldati. Dei soldati addirittura. All'esterno. Potremmo scoprire qualcosa di interessante. Cioè in guerra stanno andando. Vai. Andiamo in guerra. Dovrebbe esserci altri soldati là fuori. Diamo un'occhiata alla situazione e usciamo. Ecco i soldati. I soldatini. Credevo di aver sentito qualcosa muoversi. Ma l'ho solo immaginato. Che mi dici degli schiavi? Sono tutti in palestra. Questi stanno già urlando dal dolore. In palestra erano portati eh. Molto bene. Comunque ovviamente perché questa è l'immagine della sua scuola. E lui è professore di educazione fisica. Quindi per forza c'è la palestra. Ci sono delle intrusi. Non abbassate la guardia. Mmm. Non sei andato. Sembra che c'è l'acqua a terra quando camminiamo. Sono nella palestra giusto? Ok. Let's go. Dovrebbero essere poco più avanti. Let's go. Ok. Ok vabbè dietro non ha senso andato. Ah cazzo là c'è una guardia. Occhio attenzione. Ah cazzo. Ah cazzo. Il livello di allerta. Ok. Ebbè sì. Il livello di allerta. Ok. Praticamente ragazzi ogni volta che noi vediamo visti da una guardia a mettere il livello di allerta. Più è alto più sono forti le ombre che incontriamo. Però quando noi riusciamo ad attaccarle e a vincere la battaglia senza essere visti il livello diminuisce. Quindi dobbiamo sempre cercare di fare le cose in modo stealth. beh il livello di allerta non è vero è vero. Dove le annotate? Sulla sciarpa? Eh sulla sciarpa ce l'ha notato. Ok. Eh sulla sciarpa ce l'ha annotato. Ok. Cazzo Dai muoviti No Girati dai che abbiamo fatto l'attacca sorpresa Eccolo Bomba Ok Non abbiamo abilità a cui sono deboli Purtroppo penso Però vabbè dai Dai favore o gauss Lo state massacrando Ok Addio La nostra persona è arrivata a livello 3 Vedete se ho basso la trivola di allerta Che è quello che sta in alto a sinistra Bene di qua Sì Ok Facciamo attenzione alle guardie lungo la strada Giustamente Ok Andiamo 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 Attenzione alle guardie però Oh Delle guardie Hey Hai visto qualcuno che sembra come un intrudore? No Né 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 Sì Ho sentito che c'erano molti inizi Sì È semplice Che farlo i Non è inizio di Né Sì E Cosa dobbiamo fare? Speriamo di correre E' come prima Non è così semplice Abbiamo ancora un long way Per andare Quindi Bisogna si è illuminato il cervello è malo le daun eh ok ma non... infatti cosa stiamo per fare? ok fidiamoci dai mi fido giusto perchè sei un gatto e so che sei intelligente ok possiamo sparare ragazzi stucca ok abbiamo usato tutti i proiettili ma infatti l'ho notato ovviamente puoi scappare ma usare l'ho tutto fa più bene che lasciare la ricetta ok infatti le usate tutte ah le munizioni vengono ripristinate a termine della battaglia quindi ogni battaglia abbiamo le munizioni cariche praticamente d'accordo minchia la fionda c'ha lui ok per vero? per vero? wow con la pistola giocattolo ha appena sparato proiettili veri? diciamo siamo in un mondo cognitivo stupido babbano se l'avversario crede che sia vera allora lo diventa è un bene che sia così realistico non capisco un cazzo ascolti questo siccome pensa che sia un'arma vera la riserva di proiettili in battaglia è limitata praticamente in questo mondo è tutto basato sulla condizione delle persone ma si aspetta anche che lo affronti con armi cariche ergo i proiettili si ripristinano dopo un scontro esatto essendo che è basata sulla condizione delle persone se una guardia pensa che è vera lo diventa e ovviamente come ha detto adesso dopo che affronti un'altra battaglia c'è i proiettili scarichi essendo che ovviamente la guardia pensa che tu gli stai puntando una pistola carica addosso e di nuovo carico tutto così molto semplice diciamo la vita facile cazzo un'altra guardia tizer ok vai infatti esattamente ci abbiamo tutte le munizioni ciao proprio come pensavo i nostri proiettili si sono ripristinati prima nello scontro non sapevo se portalo o meno all'inizio ma ora so che ne valsa la pena siamo fortunati ad avere un'arma da fuoco aggiuntiva nel nostro arsenale quindi effettivamente di oggi è stato utile a qualcosa cosa che in genere non succede ottimo lavoro direi anche se ha funzionato per pura fortuna dovevi proprio metterla così infatti bastardo non lamentarti biondino è comunque una lode lui è molto no cacacazzo però comunque d'ora in avanti dovremmo stabilire i nostri ruoli in battaglia si sostanzialmente ehm se noi possiamo decidere esatto se far combattere gli altri al posto nostro oppure se decidere noi cosa fare comandi diretti vuol dire che noi usiamo il gatto in battaglia non decide lui cosa fare ma decidiamo noi che attacchi fare ok ora andiamo avanti raggiungere oh un altro muore ok ok possiamo usare il gattino ok le zucche abbiamo visto ora abbiamo visto ora che esatto sono deboli al vento non c'è il vento quindi vai addio ok vedete il livello diminuisce sempre di più il livello di allerte no siamo quasi arrivati penso la palestra una guarda una guarda mmm di nuovo però la c'è la palestra mi sa credo sia la nostra sola scelta ma aspettate questo potrebbe essere un buon momento ok ho deciso ti insegno un modo speciale di battagli ok dici di più una nuova tecnica qualcosa così andiamo ok ok mettiamo la terra ed è bene al maledetto vai attenzione attenzione hm questo è stato molto bene Sì, sei sicuramente perfetto per questo. Cosa era quella supermove che hai fatto? Ti ho detto, è stato un attacco all'interno. Se riesci a spettare tutti i soldi, potresti poter usare i soldi tutti a una volta. Sì, è stato molto velocemente. È un attacco concentrato su soldi senza soldi, dopo tutto. Ora, come ho detto prima, voglio che tu sia il presidente della nostra comanda. Puoi decidere quando usiamo questo. Ok, praticamente, quando tutti i nemici sono a terra, possiamo fare l'assalto. Esatto. Perché proseguiamo? Ma qua c'è qualcosa? No, ok, vabbè andiamo nella palestra, vai. Aggiungi la palestra. Oh! Ci siamo! Palestra dell'amore di Kamoshida? Che stronzata è mai questa? Eh vabbè, tocca andare a vedere, che schifo però. Questa voce da dove è piena? Mmm, stanno orgasmando? Stanno scopando? Che fanno? Wow! Mi viene da laggiù? Aia, calci in culo. Lancia in culo. Incazzato nero. Quanti volte dobbiamo dire che ti ho chiesto di mantenere la sua voce? Che, come hai fai, ma lei è calma. Ma questo è davvero messo. No. 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 state l'��릴are. Per fatto, non, possiamo fare. Non. Se ci siamo Almost Bedeanci, cambiamoci con voi. Ah, ecco. Quindi praticamente esistono solo in questo palazzo. Non sono persone vere. Alla prossima, questo è vero. Bisogna dire che si tratta di loro come scambi nel mondo reale. Nel mondo reale reale? Guardate, conosco questi ragazzi. Sono membri della squadra di volley, quello che Kamoshita insegna. Deve essere fisicamente abusi tutti i giorni. Non c'è modo che sarebbero così spettati normalmente. Non mi dicono, si tratta di una cosa simile in realtà? Probabilmente. Questo provoca che Kamoshita pensa di loro come scambi. Quindi, potrebbe essere per vero. Ho sentito che Kamoshita usa la punizione fisica. Sono solo rumori, ma... Se sono veri, non sarebbe qualcosa da riportare alla polizia? Usare questi ragazzi come evidenza. Se tutto va bene, potremmo ridurre quella ass***a Kamoshita. Eh? Non funziona. Possiamo usare l'app navigazione, ma la camera è un no-go? Un'app navigazione? Un'app navigazione? E' quello che usavamo per arrivare qui. Cosa è la tua? Eh? La mia fotocamera non si avvia. Qualcosa cosa facciamo è bene, ma ci saranno attaccati se stendiamo così. Dobbiamo andare a tornare. Ok, dobbiamo memorizzare i loro volti, ragazzi. Controlliamo. Qua che c'è? Ahia, l'acqua. Basta, per favore. Negare l'acqua agli atleti durante gli allenamenti è una pratica comune anche nel mondo reale. Con lo stronzo cerco di memorizzare tutti questi volti pianetoni indietro. Quindi qua ci sono tante torture diverse, diciamo. Ok, vediamo qui. Questa è brutta. Fa male, fa male. Eh, non ti credo. Questa è pura violenza, infatti. Drigate. La so, la so, dammi un secondo e memorizzare in fretta. Comunque li ricordo tutti. Ok, li ha memorizzati tutti. Allora, perdiamoci un tempo, dobbiamo filarcela. Ok, scappiamo, 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 scappiamo. Via, 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 via. Dobbiamo uscire, vai. Vai, cazzo, arrivano. Arrivano, 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 arrivano. Dobbiamo scappare, ragazzi, dobbiamo scappare. Eh, sono rimasti fin troppo. Via, via, via. Ok. Ok. Ok.